immaginabile. Una coesione raggiunta attraverso la mediazione del Parlamento centroamericano, il cui ruolo, sottolinea, come i Paesi centroamericani abbiano di fatto raggiunto una nuova fase del loro processo di integrazione. Un processo che ha di fronte a sé ancora molta strada, ma che sicuramente potrà adesso avvalersi di questo nuovo quadro giuridico internazionale di collaborazione e di scambio. Grazie. Grazie, autorizzata a consegnare. A facoltà di intervenire il Presidente del Governo, che però si riserva e quindi, non essendovi ischitti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, avvertendo che non si darà luogo alle repliche. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Passiamo alla discussione del disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato numero 3.300, ratifica di esecuzione dell'accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con allegati e firmata a Pechino il 4 luglio 2005. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali e avverto che la Commissione Affari Esteri si intende autorizzata a riferire realmente a facoltà di intervenire la relatrice onorevole Carrozza. Grazie, Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. L'accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, sottoscritto a Pechino il 4 luglio 2005, disciplina la corrispondenza di livello dei titoli accademici dei due Paesi. Ad oggi la cooperazione culturale tra l'Italia e la Cina è disciplinata da un accordo di cooperazione che risale al 6 ottobre 1978, mentre la cooperazione nel campo della ricerca risale a un accordo firmato a Pechino il 9 giugno 1998. Manca ancora una disciplina del reciproco riconoscimento dei titoli di studio a livello universitario rilasciati dalle autorità competenti della Repubblica italiana e della Repubblica popolare cinese. Ciò comporta che i cittadini che intendono iscriversi verso le università dell'altro Stato contraente conseguono presso tale università diplomi di laurea privi di riconoscimento legale da parte delle autorità dei Paesi di origine. A seguito dell'entrata in vicore di questo accordo si permetterà quindi agli studenti italiani e cinesi in possesso del titolo finale degli studi secondari superiori di essere ammessi nelle istituzioni universitarie dell'altro Stato contraente. Eventualmente potrà essere previsto un esame di idoneità all'accesso al corso universitario. Nell'obiettivo di favorire la collaborazione culturale tra i due Paesi l'intera tiene opportunamente conto dei cambiamenti verificati del sistema universitario italiano dal 1997 in attuazione della Convenzione di Lisbona del aprile 1997 fino al regolamento del 2004 sull'autonomia didattica degli Atenei. In ragione del numero di studenti di lingua italiana nelle scuole superiori e nelle università cinesi e del crescente numero di studenti cinesi che si iscrivono nei nostri Atenei, circa 8.000, l'accordo favorendo l'inserimento di questi studenti nel sistema accademico italiano contribuirà altresì all'aumento del tasso di internazionalizzazione dei nostri Atenei, nonché all'ulteriore diffusione della lingua italiana, anche attraverso la rete dei tre istituti di cultura operanti a Pechino, Shanghai e Hong Kong. Passando ai contenuti, quanto all'ambito di validità, i destinatari dell'accordo sono le università, gli istituti universitari, i politecnici e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, statali e non legalmente riconosciuti ed abilitati a rilasciare titoli aventi valore regale. Ai sensi dell'articolo 3, gli studenti in possesso del titolo finale di studi secondari superiori possono essere ammessi presso un'istituzione universitaria di uno dei due Paesi, secondo le disposizioni vigenti nel Paese di accoglienza, previa verifica della conoscenza della lingua nazionale, della disponibilità dei posti riservati agli studenti stranieri e del superamento delle procedure di selezione per l'accesso ai corsi a numero chiuso. Il medesimo articolo prevede che siano esonerati dalle prove per l'accertamento della competenza linguistica, nonché dal contingentamento dei posti, i diplomati presso scuole secondarie nel cui programma di insegnamento sia stato inserito, almeno per un triennio, l'insegnamento della lingua del Paese ospite. Gli articoli da 4 a 6 disciplinano il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle istituzioni universitarie cinesi in Italia, disponendo che i certificati rilasciati dalle istituzioni elencate nella legato B consentano l'iscrizione ai corsi universitari di primo livello, dei livelli successivi e al dottorato di ricerca presso i nostri atelei. La competenza ad esprimere una valutazione sull'equivalenza dei certificati, dei periodi di studio e degli esami sostenuti spetta in ogni caso all'istituzione ricevente. L'articolo 7 riconosce ai possessori di un titolo universitario conseguito presso un'istituzione universitaria di uno o due Paesi il diritto a fregiarsi di tale qualifica nell'altro Paese. Il successivo articolo 8 prevede la creazione di una commissione mista permanente per l'attuazione dell'intesa. Il disegno di legge è già stato approvato dal Senato il 10 settembre scorso e riproduce il contenuto di un analogo provvedimento già presentato nel corso del 2012, ma il cui esame si è interrotto per lo scioglimento della legislatura. Segnalo il parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio, che ha esplicitato che alle trasferte in Cina prenderà parte un solo rappresentante del Ministero dell'Istruzione. Infine, è il caso di richiamare la rilevanza di questo accordo, che si inquadra in una prospettiva di grande sviluppo delle relazioni italo-cinesi, avviata dalle due visite di Stato del Presidente Renzi e del Premier Li Keqiang nel 2014, proseguita con Expo 2015 e con la visita del Ministro Gentiloni in aprile, che si è consolidata con le missioni in Cina del Presidente del Senato. Grazie. Grazie a lei. A facoltà di intervenire il rappresentante del Governo che si riserva, non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulla linea generale, avvertendo che non si darà luogo alle repliche e il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 3.057, 3.163, 3.167, 3.191, 3.196, 3.237, 3.248, 3.274 a disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. Avverto che lo schema regante della ripartizione dei tempi è pubblicato in caccia al resoconto stenografico della seduta dell'11 marzo 2016. Dichiara aperta la discussione sulla linea generale.